Non si ferma la scia di sangue sul comprensorio del Monte Grappa, il lupo continua a mietere vittime, costringendo anche gli amanti degli animali a prendere una posizione e a decidere quale animale della catena difendere. Negli ultimi due giorni ci sono stati almeno due assalti. Modalità, rapidità e frequenza lasciano intendere che non si tratti di una sola coppia come le ultime rilevazioni avevano ipotizzato, ma che si tratti di almeno due o addirittura tre coppie. Ora nel Grappa, residenti emalgari puntano il dito e chiedono aiuto. Una situazione che a sentire chi segnala quotidianamente a Rete Veneta predazioni e assalti è sfuggita di mano all'assessorato alla caccia che di questo tema si dovrebbe occupare. L'assessore Giuseppe Pan, invece di attivarsi immediatamente, accusò Rete Veneta di creare allarmismi quando le prime predazioni vennero alla luce nell'altopiano. Ora il lupo animale molto mobile sul territorio semina sangue e terrore anche nel Grappa e i residenti non sanno come mettere in salvo la fragile economia di montagna né come mettere a riparo i propri animali. Reti elettrificate e indennizzi non sono sufficienti e il territorio da mesi reclama più attenzione da parte dell'assessorato. E' molto grave perché questi animali, i nostri animali non sono abituati a difendersi e quindi sono facili. Un'economia messa in ginocchio, tanto che gli operatori ipotizzano che il prossimo anno più di qualcuno potrebbe decidere di non portare in quota il bestiame. Chi è che rischia di portare su ancora animali? Guarda che gli hanno fatto fuori tre in due note e adesso ne mancano ancora cinque che non sappiamo dove andare in cerco.